ciao a tutti ben ritrovati andiamo subito a vedere come poter proiettare il nostro telefono direttamente sul nostro computer direttamente dal nostro sistema senza installare applicazioni terze e robe varie nessun software applicazione robe varie quindi andremo a fare semplicemente due passaggi molto semplici e niente direttamente dal sistema possiamo proiettare il nostro telefono direttamente sul computer si può fare sia con windows 10 che con windows 11 le impostazioni sono sempre quelle da seguire è la stessa roba quindi si può fare con tutti e due sistemi operativi quindi molto molto semplice andiamo subito a vedere come si fa prima cosa andiamo su start quindi impostazioni setting in questo caso che tanto sistema quindi apriamo il sistema quindi dopo di che andiamo su proiezione del computer una volta fatto questo andiamo qua in alto clicchiamo su feature qui ci clicchiamo sopra e avremo questa serie di plugin aggiuntivi a noi quindi andiamo in alto dove c'è il quadratino del più quindi aggiunge andiamo ad aggiungere quello che ci serve in questo momento andiamo a scrivere wireless display questo plugin selezioniamo dopo di che andiamo a installarlo bene andiamo facciamo lo scaricare installiamo il plugin bene una volta che l'avete installato ora continuiamo su windows 10 che bene o male ho fatto vedere prima su windows 11 giusto per far vedere che la procedura è sempre uguale la stessa quindi una volta che l'abbiamo abbiamo scaricato quel piccolo tool quindi avremo questa schermata dobbiamo fare attivare qua sotto deve essere attivato dopo di che qua in alto andiamo a a cliccare su avvia l'app connetti di proiettare questo pc andiamo a cliccarci sopra ci verrà fuori questa schermata quindi adesso è pronto per essere proiettato lo dobbiamo fare dobbiamo andare sul telefono quindi andare andare su a cercare la proiezione dovrebbero avere tutti i telefoni andiamo a cliccarci sopra andiamo qua ci dice di attivare bluetooth wifi eccetera quindi andiamo ad attivare quindi va a cercare dispositivi che sono pronti per la proiezione questo caso cercherà tv tastiere mouse eccetera come possiamo vedere qui mi appare smart proprio mi appare proprio il mio computer via vado a cliccarci sopra ecco il nostro telefono proiettato sul pc quindi come abbiamo visto è una procedura molto semplice alla portata di tutti senza dover installare applicazioni software eccetera di terze parti quindi direttamente dal nostro sistema possiamo proiettare il nostro telefono quando ci pare quando vogliamo senza star di appesantire il computer con tanti di quei software eccetera che tanto poi dopo un po non vanno più neanche quindi bene ragazzi con questo vi saluto vi invito a iscrivervi al canale di mettere un bel like se il video vi è stato utile e di non perdervi i prossimi video alla prossima ragazzi ciao